Lei ha una posizione molto critica sulla nomina dell'ingegner Marcello D'Alberto all'ufficio speciale per la ricostruzione, non per le capacità personali dell'ingegnere, ma per un modo di fare politica che continua a flagellare il nostro territorio. Assolutamente sì, infatti non è in discussione la qualità professionale e personale dell'ingegner D'Alberto, ci mancherebbe. Anzi, mi fa piacere per lui e spero che possa esprimersi al massimo nella gestione di questo ufficio. Però c'è l'ennesima ombra politica che pende sulla nomina, è stato fatto un bando con criteri evanescenti. Alla fine c'è stato Monticelli che ha posto le sue condizioni e quindi ha preteso la nomina di D'Alberto, evidentemente persona a lui vicina. Va tutto bene, però io credo che i cittadini debbano cominciare a chiedersi se è questa la politica che vogliono, perché è la politica che sta devastando il nostro territorio. Cioè vengono scelte le persone sulla base delle vicinanze politiche e non sulla base dei curricula. Visto che è stato fatto un bando con 22 posizioni da vagliare, non sappiamo come siano state valutate, sappiamo soltanto che c'è una nomina di carattere politico. E questo non giova secondo me neanche alla serenità dell'ingegnere D'Alberto. Io invito i cittadini a iniziare ad interrogarsi se è questo sulla circostanza, che sia questo il modo corretto di fare politica. Perché abbiamo Chieti, che è una città che si sta spopolando, L'Aquila e Teramo, che sono due città devastate dal sisma, ma già prima erano state devastate da una calamità di tipo non naturale, che è proprio la politica clientelare. Abbiamo Pescara, che è bellissima in centro, ma comunque soffre di un degrado terribile nelle periferie. E' questa la politica che vogliamo per l'Abruzzo? Iniziamoci a chiedere chi ha fatto carriera e come in Abruzzo. Iniziate a chiedere a chi vi è vicino come ha avuto successo, se ha avuto successo perché si è appoggiato alla politica qui nella nostra regione o se ha avuto successo perché è andato a cercare il successo fuori. E quindi iniziamo a interrogarci alle prossime elezioni su come sceglieremo i nostri candidati, su come sceglieremo i nostri parlamentari, visto che tra poco probabilmente si tornerà le urne. E' il caso di iniziare a pensare se è questa la regione che vogliamo, se è questa la politica che vogliamo, o se è il caso magari di cambiare candidato e di cambiare anche schieramento.